Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con informazioni di Telebari e Radio Bari. Asse Nord Sud, traffico in via di miglioramento, ma i residenti si lamentano della soppressione di alcuni parcheggi. Serena Russo. Fiera d'Elevante, ripresa delle lezioni e tanta tanta curiosità. Il ponte senza nome, da tutti conosciuto come Asse Nord Sud, registra il tutto esaurito in poco tempo e causa disagi alla viabilità della zona. Tecnici comunali sono al lavoro per studiare l'andamento del traffico, ma si dichiarano certi che una volta metabolizzata la curiosità, il ponte, entrerà a regime smaltendo gli ingorghi che fino a qualche giorno fa si registravano in città. Tra le critiche mosse da alcuni cittadini, la soppressione dei 21 posti auto e la creazione, in via Tommaso Fiore, di parcheggi a 45 gradi, comunemente detti a spina di pesce. La paura, quella di rimettersi sulla careggiata in retromarcia, impattando con le auto in arrivo. Ma l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso replica, è il parcheggio più sicuro. Con queste soluzioni abbiamo completamente liberato la corsia di marcia di sorpasso e invece quella di destra, quella di marcia tradizionale, può entrare nel parcheggio libero a 45 gradi senza grandi manovre, così come può uscire con una semplice manovra in retromarcia. Penso che sia una delle migliori opere finora costruite in Bari, insieme alle grandi opere fatte, diciamo, nei tempi antichi. Tu lavori qui, quindi insomma hai la possibilità di vederlo tutti i giorni? Migliorato molto. Sono contento, sono contento che me l'hanno fatto. E vedete, anche una comodità per prenderci con valazione, tutto fatto questo. Ora si parla del nome, lì come lo chiamerebbe questo ponte? Non lo so, questo è il nome di un santo di Bari, San Nicola. È utile? Molto. Come lo chiamerebbe lei? De Caro. Offrire un aiuto tangibile per la ripresa delle attività amministrative in uno dei comuni colpiti dal sisma è il proposito che ha spinto un gruppo di dipendenti comunali baresi guidati dal direttore della ripartizione lavori pubblici, ingegner Domenico Tondo, a partire questa mattina dal comando della Polizia Municipale per raggiungere Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. La squadra è composta da due ingegneri e tre agenti della Polizia Locale. A salutare il gruppo in partenza anche il sindaco Antonio De Caro. In momenti come questo è fondamentale che la solidarietà si manifesti in genzi concreti. Sono grato ai tecnici, agli agenti di Polizia del Comune, che si sono offerti volontari per portare le proprie competenze in aiuto ai colleghi di Acqua Santa Terme. Avviso pubblico per la ricerca di una nuova sede per gli uffici comunali. Da oggi la valutazione delle proposte, ma le opposizioni dichiarano controlleremo. Sentiamo le parole del consigliere Fabio Romito. Questa mattina si insedia la commissione di valutazione e cominceranno finalmente a valutare le cinque proposte. Sì, il nostro auspicio è che la commissione possa svolgere questo lavoro nel più breve tempo possibile perché l'amministrazione ha tremenda necessità ed esigenza che questo avvenga. E soprattutto che possa farlo tenendo presenti i rilievi che i consiglieri comunali di opposizione hanno svolto pubblicamente e privatamente rispetto a questo bando per far sì che i criteri della trasparenza e della partecipazione massima di tutto il tessuto imprenditoriale del territorio, anche a gare di questa importanza, sia garantito. Noi vigileremo che questo accada. Vogliamo ricordare quali erano i rilievi proprio portati dalle avanti? Sostanzialmente, non soltanto io, ma diversi colleghi di maggioranza e opposizione hanno rilevato avevano rilevato che nel precedente bando c'erano delle condizioni troppo stringenti che evidentemente andavano in qualche modo a comprimere gli interessi della città nell'avere la proposta migliore da un punto di vista economico e da un punto di vista tecnico. Quelle caratteristiche così stringenti di fatto avevano ristretto in maniera importante la possibilità per altri soggetti di partecipare a quel bando quindi avevamo avuto una proposta che evidentemente non poteva essere considerata economicamente la migliore. Purtroppo, però, nel bando successivo che è stato riproposto quelle caratteristiche erano sostanzialmente rimaste invariate o meglio, erano state sottratte soltanto quelle precise indicazioni che impedivano all'impresa che si era giudicata la gara di compiere in maniera definitiva quell'atto amministrativo concludere quell'atto amministrativo quindi noi rimaniamo completamente in buona fede e garantiamo la buona fede di tutti però, allo stesso modo, vogliamo tranquillizzare i cittadini baresi che anche rispetto a questa procedura noi vigileremo perché, lo ripeto, l'interesse prioritario della città di Bari è di poter avere in qualsiasi campo le proposte migliori da un punto di vista tecnico e anche e soprattutto da un punto di vista economico questo è il nostro obiettivo. Partono oggi gli interventi propedeutici ai lavori di riqualificazione di via Sparano le fioriere verranno spostate entro i prossimi 20 giorni si comincia dalla rimozione della vasca ubicata nell'isolato tra via Principe Medeo e via Putignani attualmente vuota ognuna delle oltre 20 palme presenti nelle aiuole sarà riempiantata in diversi siti della città tra i quali il Parco 2 Giugno, i Giardini della Muraglia e le aiuole di Corso Vittorio Emanuele entro la fine del mese poi le ditte responsabili definiranno nel dettaglio tempi e modalità dei lavori che si svolgeranno nell'arco dei prossimi mesi Siglato questa mattina nella Capitaneria di Porto di Bari l'accordo tra Direzione Marittima della Puglia e Agenzia delle Dogane sull'applicazione della Direttiva Europea per la riduzione delle sostanze inquinanti provocate dalla combustione del gasolio delle navi in servizio di Cristina Ferrigni Ridurre le emissioni di anidride solforosa prodotta dai combustibili utilizzati dalle navi in porto al fine di ridurre gli effetti nocivi vitali e emissioni per l'ambiente è uno degli obiettivi della politica ambientale dell'Unione Europea dall'anno scorso è obbligatoria l'applicazione della direttiva comunitaria che prevede tra le altre cose l'analisi di campioni sulla qualità dei combustibili utilizzati dalle navi all'ormeggio il livello di gasolio stando alla norma non deve superare lo 0,1% di massa oggi a Bari la firma del protocollo di intesa tra Capitaneria di Porto e Agenzia delle Dogane nei cui i laboratori verranno effettuate le analisi dei campioni mettiamo a disposizione della comunità tutta la nostra competenza in materia chimica che è un settore spesso molto sottovalutato non noto all'opinione pubblica ma in realtà i nostri laboratori compreso ovviamente il laboratorio di Bari presentano professionali dattali da poter supportare questa attività un accordo che pone l'attenzione su uno dei temi legati alla sostenibilità ambientale delle attività del porto di Bari che ogni anno registra un incremento del traffico croceristico e delle navi portacontainer l'accordo che abbiamo siglato e che stiamo per perfezionare è quello che ci consente ovviamente di avere dei riscontri sulla qualità dei carburanti e quindi come dire un'attività deterrente sulle unità che eventualmente vogliono in qualche modo o ipotizzano in qualche modo di utilizzare dei carburanti non previsti facevano parte di un'organizzazione criminale derita riciclaggio di autovetture rubate arrestati dalla polizia di Monopoli due pregiudicati di Fasano di 29 e 24 anni i giovani sono stati sorpresi mentre smontavano un'automobile risultata rubata all'occorotondo inoltre dopo un blitz nelle campagne a sud di Monopoli i militari hanno scoperto all'interno di un garage sotterraneo una vera e propria autofficina abusiva con tanto di strumentazione necessaria al riciclaggio oltre ai pezzi di ricambio è stato rinvenuto un apparecchio elettronico per inibire i telecomandi delle autovetture i due agli arresti domiciliari sono accusati di riciclaggio e ricettazione ancora in corso le indagini sui restanti membri dell'organizzazione esportare il brand pugliese a livello nazionale e diventare più competitivi sul mercato di nuove strategie per la promozione del turismo se ne è parlato oggi in fiera con l'assessore regionale ai risorse agroalimentari Leonardo Di Gioia non esiste un motivo solo per cui la Puglia è importante non è solo il mare non è solo la parte religiosa non è soltanto il paesaggio non è soltanto l'agricoltura ma è un mix una combinazione ideale che poi d'estate trova la sua massima espressione con la quantità maggiore di turisti ma che costituisce comunque un paniere che noi formiamo attorno a questo bisogna avere anche la capacità di essere sempre più in grado di raccontarla questa nostra regione di riscoprire le tradizioni di alzare il livello e la qualità dell'offerta che si fa in molti settori in particolare per l'accoglienza migliorare la dotazione infrastrutturale insomma ci si confronta su tanti argomenti che sono ciascuno un pezzo della soluzione e con la capacità di avere una sintonia precisa col territorio dobbiamo essere in grado di dare queste risposte oggi mi pare che ci sono le condizioni per fare un ulteriore passo in avanti in una stagione nella quale siamo primi più o meno in tutte quante le graduatorie e di qualità e di quantità un intero padiglione dedicato alla promozione della legalità in tutti i settori produttivi si chiama lascia perdere ed è la campagna di sensibilizzazione lanciata da Union Camere all'interno della Fiera del Levante l'iniziativa promossa dall'Associazione delle Camere di Commercio Pugliese è finalizzata a tenere riflettori accesi su usura estorsione gioco d'azzardo e sovraindepitamento bisogna pretendere rispetto delle regole per gettare i basi solide ridurre le diverse forme di illegalità e restituire al paese in elevata qualità della vita commenta Alessandro Ambrosi presidente di Union Camere Puglia nuovi progetti per l'edilizia residenziale pubblica a Bari aggiorni la firma di un protocollo d'intesa tra Comune di Bari e Arca Puglia sentiamo di cosa si tratta la sicurezza al primo posto poi la riduzione dei consumi energetici non ultimo l'estetica il Comune di Bari è pronto a siglare raccordo con l'Arca regionale per migliorare la funzionalità e l'aspetto dell'edilizia residenziale pubblica un accordo che si avvale della collaborazione del Politecnico di Bari oggi è un momento di confronto con l'assessore al patrimonio Vincenzo Brandi con l'amministratore dell'Arca Puglia Giuseppe Zicchella e con il professor Francesco Ruggero dell'Università di Bari insieme al Politecnico al Dipartimento del DICAR insieme ad Arca Puglia Centrale facciamo una giornata di approfondimento e spieghiamo quello che è il percorso che vogliamo seguire a breve che è quello di intanto fare una verifica statica di tutti gli immobili dell'ERPA e verificare se rispondono alle condizioni antisismiche e poi efficientare i palazzi dell'ERPA attraverso un nuovo sistema che è una sorta di cappotto che verrà calato sui palazzi che conterrà la possibilità di efficientarli attraverso pannelli soari piuttosto che piccole paleoliche Quali sono gli interventi che riguarderanno l'edilizia residenziale pubblica? Noi abbiamo già in cantiere gli interventi su Carbonara e gli interventi a Bari Stanic per il quale il comune di Bari ha già fatto la gradutoria ed è in corso di ultimazione l'individuazione dei soggetti questi interventi noi saremo in grado di consegnarli entro la fine dell'anno così come siamo in corso di ultimazione i 112 alloggi più i 112 alloggi per Sant'Anna Da lunedì prossimo partirà la nuova sitcom di Telebari C'è di con protagonista Renato Ciardo ci potrete seguire alle 14.05 con replica alle 19.50 alle 22.20 domenica maxi puntata alle 14.45 ecco il promo Nel telegiornale termina qui in chiusura vi ricordo il nostro sito internettelebari.it aggiornato in tempo reale adesso mi lascio le previsioni meteo grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata Amici Trebi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che a livello europeo sarà abbastanza tranquilla solo sulle isole britanniche alle alti latitudini ritroveremo un po' di nuvole e qualche piovasco e per quanto riguarda l'Italia finalmente situazione in netto miglioramento al sud anche se sarà ancora presente un po' di variabilità quindi qualche locale temporale pomeridiano sarà ancora possibile ma in forma meno diffusa infine al sud diciamo fenomeni un po' meno diffusi ma ancora un po' di variabilità sarà presente quindi qualche temporale potrà formarsi ma per lo più di breve durata con questo è tutto per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com grazie a tutti Grazie a tutti